Stasera alle ore 21, proprio in questo momento, ecco qua che bel prato, di fianco a me. Piovante c'è il mio amico, l'albero stanco, perché è inclinato. E devo dire che mi sto incamminando già verso casa, un quarto d'ora arrivo, passo la casetta dei sette nani. Oggi è stata una bellissima giornata, alla Veno, Calde, dove sto contrattando una casa. Comunale, anche lì, senza pagare. Speriamo che tutto vada bene e che riesca a avere la possibilità quest'estate, invece da fare il pendolare avanti e indietro, avere tre possibilità di stare in tre o quattro luoghi differenti, senza bisogno di andare avanti e indietro in treno. Perché devo dire che i treni attualmente sono ben fatti a scacchiera, soprattutto i treni italiani. Sono ben fatti, solo che essendoci poca gente in treno, a un certo punto salgono delle persone non per bene, diciamo pure non sono zingre. Dei ragazzi chiedono della moneta e insistono, insistono, vengono vicino a insistere. Come mi è capitato oggi, il treno da Laveno per Milano sono saliti parecchi a Saronno. Cosa devo dire? Non ho paura del Covid-19. Sobentrano altri fattori che disturbano l'individuo della mia personalità che è in pace. D'altronde raccomando tutti a tutti a tutti di non viaggiare mai da soli in treno, perché ci sono gli scompartimenti vuoti, sempre meglio in due. Anche perché non si sanno gli imprevisti, le cose che possono succedere all'improvviso, come Milano, Greco, Pirelli, Sesto, Marelli che salgano gli zingari. Come in altre situazioni critiche, passa un ragazzo valordo e ti insiste a chiedere la moneta e si è costretto a darla. E così il rischio, oltre che Covid-19, ci sono altri problemi. Mi sto avvicinando in questo momento ai miei simpatici animaletti, le rane. Le rane, le rane, le ranocchi. Qua c'è un ruscello umido. Io in questo momento non li sento. Ecco, ecco. Bello. I girini. Ottimamente. Adesso arrivo a casa, ho già mangiato, tutto bene. È una bella giornata, pienamente estate e domani ritorno forse dalle parti di Acquafraggia. Poi vedo, faccio col fiume il torrente. Poi vedo domani sul da farsi. Secondo gli autobus è la zona in cui mi trovo che sono più vuoti. Quanti problemi esistono al giorno d'oggi. Oggi, oggi è così. È così e si va avanti, si tira la mia situazione fino a un livello che non diventa esasperazione, ma diventa una lotta per la vita.